ho iniziato a scrivere passaggi segreti tre o quattro anni fa nella mia testa girava questa idea di mettere insieme alcuni luoghi alcuni viaggi che avevo compiuto in italia che possedevano qualcosa di molto speciale di unico luoghi e viaggi che erano riusciti a farmi accedere a qualcosa che fino allora non ero mai riuscito a scoprire ci sono viaggi che attraversano un po tutta l'italia e qualche modo svelano e accedono alla ricchezza del territorio italiano dalle enigmatiche vie cave di pitigliano e sovana scavate nel tufo al fascino della statale 92 che attraversa la dorsale della basilicata dal sentiero di punta manara in liguria che conduce lì dove al confine con il mare una torretta sembra ancora attendere l'attacco dei saraceni fino ai meandri misteriosi delle parene tra le isole abbandonate della laguna della venezia nativa ma anche in sicilia lì sui gradoni luminosissimi quasi reali della salita dei turchi o anche al viaggio in traghetto sulle acque rapide del lago maggiore azzurrissimo che conduce all'eremo di santa caterina del sasso ecco questi viaggi sono accomunati di qualcosa di molto particolare sono strade poco battute percorsi ferroviari nascosti passaggi fluviali varchi che aprono la strada in italia nascosta e preziosa sono 12 viaggi che compiuti ciascuno in un mese diverso in un anno diverso 12 viaggi che vanno dall'inizio di un'estate passano per l'autunno per l'inverno per la primavera e giungono ad un altro inizio d'estate che sembra innescare il nostro desiderio di cambiamento la necessità di scoprire qualcosa di nuovo